Buongiorno a tutti, innanzitutto mi presento, sono Alfonso Damiano, sono docente di energetica elettrica presso l'Università degli Studi di Cagliari e sono qui per presentare insieme ai colleghi Giogio Cao e De Fisio Scano quella che risulta essere una nostra proposta per lo sviluppo di una rete intelligente nell'ambito per l'appunto di Bene Tutti. Io prima però di fare questa introduzione in cui diamo per l'appunto delle indicazioni vorrei indicare la motivazione per cui siamo qui, perché noi parliamo di reti intelligenti ma la rete non è intelligente se non si mette l'intelligente, l'intelligenza ce la mettono le persone e nell'ambito per l'appunto di una rete intelligente un'azione fondamentale la fa il consumatore. La rete di per sé è un'infrastruttura ma senza dietro qualcuno che si muova per coordinare quella che risulta essere la domanda del consumo e la gestione, avendo dei benefici per tutti la rete intelligente è semplicemente una parola vuota. Quindi la necessità di avere bisogno di comunicare e di trasferire alla popolazione questo concetto per noi risulta essere fondamentale, perché una rete intelligente non nasce come l'esigenza di creare un'autarchia energetica, assolutamente no. Ha l'obiettivo di creare una comunità energetica che è una cosa completamente diversa, dove il concetto di produzione tende ad essere un concetto che tende ad essere inclusivo e non esclusivo. Il modello che fino adesso è passato è stato quello di avere un modello nel quale la produzione di energia è soltanto per se stessi, non c'è una visione condivisa dell'energia e c'è soltanto una visione per l'appunto legata ad un tornaconto nel breve termine. In questo caso invece il concetto di rete intelligente tende a utilizzare ciò che già c'è, eventualmente quello che è presente sul territorio, in modo da togliere quello che è un vincolo principale nel costo dell'energia, che è la dipendenza dalle fonti fossili, che portano denaro per l'appunto dalle nostre tasche verso le tasche ovviamente di chi produce energia primaria. Questo risulta essere l'obiettivo generale. Io adesso cercherò di inquadrare prima di tutto quello che risulta essere il progetto all'interno di quello che è il piano energetico regionale, che risulta essere il motore che ha generato il progetto complesso e che ha fatto sì che all'interno delle reti intelligenti avessero un ruolo che risultava essere preeminente. Non so se sapete ma il piano energetico ha fissato un obiettivo che risulta essere un obiettivo particolarmente ambizioso, è quello di raggiungere entro il 2030, una riduzione delle emissioni di CO2 del 50% dei consumi interni. Quindi vedete già la parola consumi si riferisce esclusivamente alla quantità di energia che noi sardi consumiamo. Rispetto ai valori del 1990, perché questo valore? Perché nel 1990 la Sardegna era effettivamente un'isola energetica e quindi tutto ciò che veniva prodotto veniva autoconsumato all'interno dell'isola. Dopodiché siamo diventati degli esportatori, ma per poter conservare una coerenza con quella che era la situazione originaria si è preferito fare riferimento esclusivamente ai consumi. Quali sono le azioni fondamentali per raggiungere questo obiettivo? Essenzialmente sono quattro. Una di queste, come vedete, è la principale, risulta essere la trasformazione del sistema energetico sardo verso una configurazione integrata ed intelligente, nel senso che bisogna avere per l'appunto un'integrazione tra le varie forme di consumo che sono l'energia elettrica, il calore e la mobilità. L'altra risulta essere la sicurezza energetica, cioè evitare che quando andiamo ad accendere la luce non ci sia l'energia elettrica, quindi avere per l'appunto continuità nel tempo. Efficienza, che è una delle forme per poter risparmiare più idonea, che si accompagna perfettamente alla trasformazione del sistema energetico, è la promozione della ricerca e della partecipazione attiva in campo energetico. Partecipazione attiva vuol dire partecipazione di tutti, cioè dal basso, dei cittadini, sino alle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, in modo da poter dire la propria a livello di questa tematica che generalmente invece ha sempre una definizione un po' verticistica. Tenete conto che in questo concetto, questo concetto che è stato sviluppato circa tre anni fa, si ricepisce pienamente quelle che sono le linee di indirizzo della comunità europea. Ricordo che recentemente la comunità europea ha detto che produrre e autoconsumare energia è un diritto, quindi questo vuol dire che quello che si diceva tempo fa è diventata un'affermazione di principio a livello comunitario. In questo contesto si è mosso il progetto complesso che entra all'interno della strategia intelligente S3 e così via. Ora però il progetto complesso ha l'obiettivo di sviluppare una definizione di rete intelligente che non è legata solo all'infrastruttura, ma è anche legata alla gestione e quindi all'utente, vedendo l'utente non solo come un consumatore di energia elettrica, ma l'energia è anche domanda di calore ed è domanda di mobilità. Quindi cercare di integrare tutte queste forme di energia insieme consente di raggiungere molto più facilmente quegli obiettivi che abbiamo detto prima. Quindi estendere un pochettino la visione della gestione dell'energia. In questo caso gestire i comportamenti, quindi il comportamento delle persone, far sì che le persone siano consapevoli in termini di consumo di energia, in termini di mobilità, energia termica e energia elettrica, far sì che si inneschi un mercato dell'energia sostenibile e dell'energia intelligente, far sì che ci sia una visione un po' ampia, trasforma quello che poteva essere semplicemente un progetto tecnico in un progetto complesso in cui c'è una parte economica, una parte legislativa, una parte sociale, una parte tecnica. E quindi questo è un progetto complesso. In questo consenso praticamente ho voluto mostrare cosa stiamo pensando di fare. Fino adesso un mercato delle smart grid non c'è, o meglio non c'era quando abbiamo pensato il progetto complesso. Oggi ci siamo resi conto che invece il mercato ha incominciato anche grazie a delle azioni promosse dalla regione della Sardegna ad essere estremamente attivo e ha dimostrato di avere attenzione sia lato domanda, cioè da chi utilizza l'energia e che ha un unico riferimento, quello di cercare di abbattere i propri costi dell'energia, a chi offre per l'appunto sistemi per produrre reti intelligenti. L'obiettivo di Sardegna ricerca del progetto complesso era quella di stimolare sia il lato domanda sia il lato offerta di reti intelligenti, in modo tale da giungere a un certo punto a farli incontrare e a far fare poi al mercato quella che risulta essere l'azione di scelta delle tecnologie più appropriate. Ma per dimostrare che le reti intelligenti non sono solo teoria ma sono fatti, l'azione sulla quale abbiamo concentrato la nostra attenzione era quella di dover realizzare dei dimostratori fisici che la gente potesse vedere, toccare e capire che dal fare, dal gestire intelligentemente l'energia si risparmia, si risparmia non solo economicamente ma anche ambientalmente e si possono utilizzare risorse che risultano essere risorse locali. Oltretutto in questo noi abbiamo inteso fare anche un'attività di comunicazione verso alcuni soggetti che diventano fondamentali come le banche che poi devono fornire i capitali per poter incentivare o meglio per poter supportare economicamente la realizzazione delle reti intelligenti e che spesso non sono a conoscenza dei numeri e degli elementi che gli consentono di valutare se un progetto risulta essere economicamente sostenibile oppure no e quindi non danno poi alla fine le risorse necessarie. In questo contesto i punti fondamentali erano essenzialmente tre. Il primo la comunicazione, cioè far sì che tutte le persone coinvolte sia al lato domandaci quindi chi usa l'energia sia al lato offerta, chi offre sistemi, venissero messe in una condizione di conoscere, di conoscere effettivamente e di poter avere la consapevolezza della scelta. E il secondo è quello di poter definire quelle che risultavano essere dei dimostratori che consentivano di dimostrare, di migliorare l'efficacia delle reti intelligenti. Ecco perché come ha detto già Luca Contini e qui mi blocco, il nostro piano prevedeva sia una parte di animazione, quindi di comunicazione, sia una parte di realizzazione di due piattaforme, uno a livello locale a Macchiaredu, quindi utilizzare un edificio e trasformarlo in una rete intelligente e l'altro farlo a livello diciamo un po' più esteso, quindi trasferire ciò che è stato, che verrà, che si sta sperimentando a Macchiaredu poi a livello un po' più ampio nel comune di Bene e Tutti. Per quanto riguarda l'animazione voglio darvi semplicemente una pillola, sono state fatte una serie di importanti workshop dove sono state date tutte le informazioni, queste informazioni sono disponibili sul sito di Sardegna Ricerche, sono dei video workshop, voi basta che clicchiate e ritrovate esattamente tutte quante le informazioni che qui ho riportato direttamente sul sito, quindi sono facilmente disponibili. Per quanto riguarda invece la parte di rete intelligente di Macchiaredu, abbiamo effettuato un'operazione che è stata quella dalla quale siamo partiti anche qui da Bene e Tutti, la prima cosa è conoscere qual è il consumo, conoscere quale risulta essere la domanda di energia, sia elettrica, sia termica che di mobilità. Nella prima fase noi ci siamo mossi ovviamente analizzando prima di tutto la parte elettrica e abbiamo riscontrato una cosa abbastanza interessante che anche avendo una produzione da fonte rinnovabile c'è sempre una necessità, cioè quella di garantire una zona di consumo che risulta essere costante, quindi questo vuol dire che è necessario avere sempre qualcuno che produca energia costantemente 24 ore su 24, almeno per una piccola quota. Se questo non si realizza la realizzazione di una smart grid diventa piuttosto complicata. L'altro elemento sul quale abbiamo concentrato l'attenzione e vado veloce risulta essere quello dell'accumulo. Avevamo la necessità di realizzare delle condizioni di accumulo energetico per poter utilizzare l'energia quando ovviamente viene richiesta e l'ultima fase risultava essere quella di poter garantire che il processo di bilanciamento tra la produzione e il consumo fosse sostenibile. In questo abbiamo introdotto delle linee guida per il dimensionamento della rete energetica di Machiaredu che ci ha portato a realizzare delle azioni che abbiamo messo a bando e che siamo per l'appunto pronti a sperimentare. La prima è stata quella di incrementare gli impianti fotovoltaici che già avevamo portandoli a 47 kilowatt, l'altra risultava essere quella di inserire dei generatori fotovoltaici da, scusatemi, dei accumulatori da 60 kilowattora e l'altra risultava essere quella di introdurre quel famoso zoccolo duro, cioè un generatore di energia elettrica, si chiamano celle a combustibile, che converte in maniera molto efficiente l'energia prodotta da fonti fossile in energia elettrica per garantire quello zoccolo duro, diciamo, dei 9 kilowatt. Questa scelta è stata fatta tenendo conto che questi dispositivi consentono poi di produrre della CO2 che viene utilizzato poi in attività, vado avanti, in attività di ricerca. L'idea era quella di utilizzare GPL per produrre energia elettrica ad alta efficienza ma soprattutto per produrre il metano e l'idrogeno che ci serve per produrre biometano tramite per l'appunto sperimentazioni che qui sono riportate perché ricordiamoci siamo sempre un centro di ricerca. Mentre per quanto riguarda bene tutti il nostro lavoro parte da lontano, nel senso che parte dall'analisi fatta nel 2012, mi ricordo, relativamente agli impianti fotovoltaici presenti su bene tutti e relativamente al piano energetico, nel quale già dal piano energetico abbiamo analizzato non bene tutti da solo, ma bene tutti aggregandola per l'appunto con altri comuni, vedendola come nucleo fondamentale di un'estensione del sistema di gestione ai comuni limitrofi. In una visione più grande l'aggregatore si chiama cluster nel quale è presente bene tutti è un insieme di comuni, uno delle undici comunità nel quale già nel 2012 c'era un bilancio tra la produzione e il consumo annui che risultava essere perfettamente uguale a zero, quindi tanta produzione, tanto consumo. Perché l'interesse su bene tutti? L'interesse su bene tutti perché bene tutti ha, come già ho detto, la concessione per la gestione della rete di distribuzione. È municipalizzata, il contatto con l'utente risulta essere diretto, il numero di impianti fotovoltaici, la produzione di energia fotovoltaica per utente è tra le maggiori presenti in Sardegna. Oltretutto è tutta a livello distribuito. La struttura della rete è una struttura ad anello che adesso si sta, diciamo, riconfigurando. C'è una consapevolezza e una conoscenza approfondita dei problemi di natura gestionale e si ha un consumo che risulta essere un consumo non trascurabile. Oltretutto abbiamo osservato che dal 2012 al 2016, quando abbiamo fatto le ultime valutazioni, si è verificato un fenomeno che è tipico di tutte quante le comunità nel quale c'è un'introduzione massiccia di rinnovabili, soprattutto di fotovoltaico. Il cosiddetto effetto rebound, perdonatemi l'uso dell'inglese. Semplicemente quando uno ha una disponibilità di energia a basso costo trasferisce i propri consumi verso la fonte energetica a più basso costo. Quindi nel tempo c'è stato un trasferimento di una parte del consumo dall'uso dell'energia termica verso l'uso dell'energia elettrica. E quindi si è passati da un consumo nel 2012 di 2140 megawattora, a un consumo, qui c'è tutta l'analisi che abbiamo fatto ma ve la risparmio, ad un consumo nell'anno 2016 che è di 2820 megawattora. E adesso mi ha indicato che siamo arrivati a 3000 megawattora. Quindi vuol dire che questo trend è un trend per l'appunto che è considerevole. Allora, questo elemento ha messo però in luce un'anomalia. Nel senso che mentre prima avevamo per l'appunto una produzione che era circa il 50% del consumo, se andiamo ad analizzare quali risultano essere le occorrenze di richiesta di potenza dalla rete e di energia, potenza che viene immessa verso la rete, osserviamo che il comportamento è fatto così. Ora, a parte la forma brutta che ha questa curva, la cosa interessante che ci viene detto da questa curva è che per circa il 20%, in particolare per il 25% dei campioni, delle ore in un anno, bene tutti non assorbe energia dalla rete, ma praticamente la restituisce in parte. E in quel 25% trasferisce verso la rete dell'Enel 708 megawattora. vuol dire che quell'energia viene trasferita all'esterno, quindi viene utilizzata da altri enti e viene valorizzata da altri e non dal comune di bene tutti. L'altro elemento che ci indica questa curva è che praticamente la domanda di energia e di potenza da parte del comune risulta essere variabile e per poter garantire un bilanciamento è necessario compensare questa curva. Come? Prima di tutto bisogna garantire che venga mantenuta per tutto l'anno una sicurezza energetica, quindi venga mantenuta per tutto l'anno una potenza che è di almeno 300 kilowatt base. Quindi per l'80% delle ore in un anno bisogna produrre almeno 300 kilowatt e poi inserendo degli opportuni sistemi di accumulo trasferire la produzione di energia che doveva essere inviata alla rete e l'eccesso di energia prodotto durante il 20% in cui c'è una sovrapproduzione in modo tale da compensare praticamente i rimanenti picchi di potenza. In questa maniera si garantisce che per circa il 12% delle ore si richiede energia dall'Ener. Per il rimanente 88% delle ore in un anno l'energia rimane solo a bene tutti e tutta l'energia viene gestita da bene tutti. Ovviamente per fare questo non bisogna pensare che ognuno produce e si consuma l'energia da sé. Come vedete ho parlato di comunità che può essere la comunità di bene tutti, può essere la comunità del goceano, può essere qualsiasi tipo, cioè deve essere una comunità. Nel senso che bisogna inglobare una serie di utenti e gestirli opportunamente in modo tale che tali interventi di produzione siano a favore del consumo, non siano fini a se stesso, fini del profitto. Questo è l'obiettivo per l'appunto della realizzazione della Smart Grid. Quindi la proposta che alla fine dello studio noi abbiamo elaborato e che sottoponiamo all'attenzione del Comune di Bene tutti e della popolazione di Bene tutti è quella che per poter raggiungere una condizione di sostenibilità è necessario inserire necessariamente un impianto di produzione che abbia la capacità di lavorare per l'80% delle ore anno e questo può essere fatto ricorrendo ad un impianto di generazione, ad esempio a biogas, che utilizzi la biomassa presente qui nel territorio. E poi su questo parlerà il mio collega Efisio Scano. Io sto dicendo quello che è la proposta perché abbiamo bisogno di una potenza che risulti essere costante per l'80% del tempo e che sia controllabile, che abbiamo la possibilità di controllarla. L'altro elemento risulta essere l'inserimento di sistemi di accumulo elettrochimico, una parte necessariamente centralizzata, stiamo parlando di 300 megawattora, e una parte distribuita sulle impianti fotovoltaici già realizzati, che avrebbero la possibilità di utilizzare e a massimizzare quel livello di autoconsumo anche nei confronti dei propri vicini. Questi risultano essere i due elementi fondamentali che costituiscono il primo step di supporto. Il primo step di supporto per la realizzazione della fase successiva. Ovviamente tutto questo si può realizzare solo se un investimento di questo genere genera un beneficio per la collettività, se no può essere visto come un elemento esattamente opposto alla collettività, cioè può essere visto come un elemento che introduce una speculazione nei confronti di qualcun altro. È per questo che ovviamente prima di procedere alle fasi successive volevamo ascoltare e sentire le posizioni della comunità in modo tale da poter sviluppare le varie attività. In tutto questo si inseriscono altre azioni che sono l'utilizzo del calore prodotto dagli impianti cogenerativi, di cui adesso parlerà il mio collega Giorgio Cao, e la disponibilità della risorsa, perché ovviamente poi se si fa un impianto che gestisce biogas da produzioni residuali presenti sul territorio, bisogna vedere se ce n'è per produrre 200 kilowatt continuativi. Quindi su questo ovviamente lascio la parola ai miei colleghi in modo tale che poi abbiate tutti gli elementi per poter avviare la nostra discussione. Io vi ringrazio per l'attenzione e lascio la parola a Giorgio.